Il 22 gennaio 1997, circoli fondazione di Via Grelia, psicoanalisi e politica, introduzione di Paolo Cruciani. Ha un'abitudine a un lavoro di chiarificazione, di spiegazione, che siccome nella totalità, tra nemmeno lui, nessuno di noi esercita la psicoanalisi, è quanto mai importante. Perché la psicoanalisi è una cosa estremamente dedicata, di cui tutti parlano, ma probabilmente chi non ha le mani in pasta nell'argomento, è molto facilmente difficile per studiare le cose. Noi abbiamo la fortuna con lui di avere una persona con capacità di spiegazioni, ma che anche ha un'esperienza diretta sul campo. Quindi io vorrei ricordare un'esperienza perché è importante, e appunto in qualche modo richiama anche l'esperienza di attenzione, una valentina d'anni fa. Io collaboravo alla redazione della rivista di allunguardo operaglia, un'unità proletaria, e mi danno l'incarico di organizzare una serie di interviste sulla psicoanalisi. Io metto una condizione, intervisto solo psicoanalisti però, lì per lì la cosa non fu capita, cominciano ad arrivare psicoanalisti che rispondevano all'intervista. E in redazione certamente mi dicono, ma intervista anche Gerdis, io dico no perché non era uno psicoanalista, allora tra l'altro non era psicoanalista, però Gerdis era un mito della sinistra. Io dico no, io gli hanno disegnato l'intervista perché lui non ha disegnato niente questo cos'è. No, non ne sapevano l'intervista. No, non ne sapevano l'intervista. Adesso, 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 questo è giusto. Adesso, secondo me, continuo a non sapere che no, 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 no. Comunque, fu interessante che la risposta redazionale fu questa. In quanto militante del movimento, lui sicuramente è autorizzato a parlare dell'inconsuo. Che mi pare una delle manifestazioni appunto dell'aberrazione di quel tipo di ideologia. La psicoanalisi è una pratica determinata, in un certo modo di valutare le cose, e quindi implica una precisa competenza per i suoi argomenti, eccetera. E l'errore appunto della redazione, che poi ovviamente fu fregata nel senso di andare da Gerdis e gli spiegare le ragioni per cui non lo voleva intervistare, nonostante l'incarico, l'incapito effettamente e gli spatti non uscì mai la sua intervista. Però appunto, l'elemento importante di quella posizione sbagliata era il quale? Il fatto che si ritenesse che un militante del movimento, in quanto militante del movimento, potesse parlare anche di psicoanalisi. Cioè che cos'è che stava al fondo? Stava al fondo, come dire, una visione metafisica della politica come il luogo in cui tutto si raccoglie e sulla base della politica posso parlare di tutto. Invece se tu gli introduce il criterio, no, di psicoanalisi parla lo psicoanalista, comincia a rompere questa totalità omogenea e comincia a chiarire che la politica, in senso proprio, è una dimensione di esperienza, non tutta l'esperienza. Ora, il Cusciani in sostanza, che ha una particolare competenza, esperienza a proposito del psicoanalisi di rinco, attraverso questo incontra subito il problema del rapporto psicoanalisi politico. E allora la cosa importante è appunto vedere come si possano affrontare delle situazioni che per loro natura facilmente si prestano a un'interazione politica vedendole sotto un vertice diverso, non competitivo rispetto a quello positivo, ma anche a un altro. Quindi non l'uno che nega l'altro, ma invece il paradosso di vertici diversi, di illuminazioni diverse che consistono, che ponono una serie di problemi in pratica. Comunque, insomma, c'è da dire anche che il Cusciani ha anche un'esperienza, un'esperienza, una duplice esperienza importante, altrimenti lui è laureato in filosofia. Quindi, insomma, non ha fatto solo vogliare i studi psicoanalisi, ma anche cosa c'è in questi anni. E... Ed ancora, ed ancora, lui ha anche una storia di militanza. Quindi, insomma, ha una serie in sé, una serie di ottiche. di questo invito, ma sopra solo una piccola nota, che Stefano sarebbe riuscito a indicare con Gervis dopo 30 secondi che si parlava. Sì, no, no. Tanto scherzato, ha fatto leggere Gervis, e forse tanto allora, in effetti è una persona che poi si è dedicata anche molto alla discussione degli psicoanalisi, dato il mio collega, di questo, no, di questo. Ora, a parte gli scherzi, eh? Eh, appunto, adesso il problema è... No, no, però, intendi, innanzitutto, dividere i nostri incontri in due parti. Una parte in cui dico delle cose, una parte in cui si discute ampiamente, perché, ovviamente, bisogna vedere che tipo di domande le cose che dico giù, o addirittura quali domande precedono quello che dico, e quindi non si sa, se non si formano, e come affrontarle insieme. Stefano diceva, psicoanalisi e politica, in particolare, la psicoanalisi di gruppo. Io spero che alla fine di questa mia chiacchierata si capisce aperta, che la psicoanalisi di gruppo sceglie un po' di più, a vedere questo collegamento. Io direi che, prima di dire psicoanalisi e politica, sarebbe interessante dire psicologia e politica, perché, nella prospettiva che Stefano stava terminando, noi andiamo alla ricerca di ambiti particolari che ritagliano un oggetto e dei metodi che riguardano questo oggetto. E, naturalmente, all'interno di questa prospettiva ci poniamo problemi e risolviamo, proponiamo produzione di questi problemi, senza che questo, però, sconfini in altri anni. Ora, la psicologia è una strana disciplina che in Italia ha una storia breve e contrastata. Come sapete, uno dei più diretti nemici della psicologia era la tradizione idealistica, la tradizione gentiliana, che non riconosceva la psicologia al puntino di legittimità come le loro scelte. E, naturalmente, questo ha portato un po' come uno sfondo nella nostra cultura di diffidenza verso questo ambito. Ora, non posso evidentemente rifare la storia di questi conflitti, e di come venivano qui. Proprio un'immagine, anche se ci vuole, proprio un'immagine molto semplice. Chiamiamo ambito della psicologia quell'ambito che confina tra un lato i fenomeni fisiologici, la neurologia, le neuroscienze, dall'altro le scienze sociali. In che senso confina con questi due ambiti disciplinari? Nel senso che un certo tipo di risposte, un certo tipo di comportamenti che un essere umano mette in atto non sono pienamente spiegabili a un certo punto né con l'ambito fisiologico né con l'ambito studiato tra le scienze sociali. Un modo di definire questo ambito possiamo dire è l'elaborazione e la risposta che si dà a degli stimoli e i processi di trasformazione che avvengono nel corso dello sviluppo. se prendiamo un certo tipo di condizione fisiologica prendiamo un uomo che ha a Mattia e Alessandra un attimo eh se ne c'è questa maledetta qui giusto? ah sì è è iniziale dai adesso dovrebbe essere cessato no guarda si si mettiamo provo se ci riesce si 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 scusami un attimo la telefonata riguarda quell'indicino cubano un attimo